Allora, che cos'è l'osteoporosi? L'osteoporosi non è una malattia, è una degenerazione progressiva, fisiologica, del tessuto osseo. È una patologia, chiaramente, ma non ci si può fare molto. Si possono avere degli atteggiamenti, si possono avere delle precauzioni, si possono assumere degli integratori, ma è una cosa che succede, accade quasi inevitabilmente. Ed è proprio una rarefazione del tessuto trabecolare osseo all'interno dell'osso litano e poroso. La degenerazione, la rarefazione di questo tessuto interno rende l'osso molto più debole, molto più fragile, molto meno resistente. Qui abbiamo tre immagini, chiaramente non realistiche, di come potrebbe essere un osso sano, bello denso, bello spugnoso. Un osseo osteopenico, quindi con una iniziale carenza di questa struttura trabecolare, di questa struttura porosa. Ed un osso osteoporotico, quindi un osso completamente deficitario di questa sua struttura interna. In Italia ci sono circa 5 milioni di persone che soffrono di osteopenia o osteoporosi. Come vedete il rapporto è di 3 milioni e mezzo di donne, 1 milione e mezzo di uomini. Non si sente tanto parlare dell'osteopenia, dell'osteoporosi nell'uomo. Perché? Non lo so. Una cosa che aiuta molto probabilmente è la struttura muscolare. Un uomo tendenzialmente potrebbe avere una struttura muscolare un pochino più tonica, un pochino più forte, che supporta il sistema osseo. Va di sé che se un uomo cade si rompe il femore, come una donna, se una donna cade si rompe il femore. Comunque abbiamo sempre una prevalenza nel mondo femminile a questo tipo di patologia. Un fattore determinante è il sistema ormonale. Post menopausa il sistema ormonale femminile varia, cambia e avremo una facilitazione a produrre questo tipo di deficit a livello strutturale. L'osteoporosi c'è in tutto il corpo, non c'è solo nell'anca, non c'è solo nella colonna vertebrale. Quelle sono le zone più a rischio e a maggior manifestazione di questa patologia. Infatti la desitometria viene fatta tendenzialmente nella zona lombare e sulle teste del femore, collo e teste del femore. Sono delle zone di indagine, sono delle zone indicatrici. Se noi troviamo un osteopenia o un osteoporosi in quella zona del corpo, molto probabilmente avremo osteopenia o osteoporosi anche nel resto della nostra struttura ossea. Qual è l'altra cosa determinante di queste due zone? Sono le due zone a maggior carico del nostro corpo. La colonna lombare supporta tutto il resto della colonna, le anche sono le due zone dove il carico del nostro corpo è maggior concentrato. E sono anche due zone a maggior rischio. Su una caduta, l'anca è la prima cosa che va a colpire il terreno. Quindi sarà una zona ad alto rischio di impatto, di trauma diretto e quindi di facilitazione a una frattura, lo stress. Questa è una cosa importante, la degenerazione, l'impoverimento dell'osso è spesso asintomatico. Noi non ce ne accorgiamo. Una cosa che spesso sento dire dai miei pazienti è come se sentissi l'osso stanco, questo dolore all'osso. Ed effettivamente l'osso non ha un suo vero e proprio recettore all'interno. Però questa sensazione di debolezza, di stanchezza tessutare, di stanchezza e debolezza interna è percepibile. Soprattutto se siamo un pochino più sensibili sulla nostra proprio eccezione, sulla nostra sensazione corporea. Però di per sé io non posso dire mi sento l'osteoporosi perché non abbiamo recettore all'interno del corpo. E infatti ce ne accorgiamo quando cadiamo e ci rompiamo il collo del femore. Questi sono dei dati che sono stati presi dal sito dell'Associazione Italiana per l'osteoporosi. In Italia all'anno ci sono circa 90.000 fratture del femore. Sono veramente veramente tante. Soprattutto perché succede in pazienti dopo i 60-65 anni. Quindi ha un'incidenza sulla popolazione avanti con l'età molto importante ed è uno dei principali fattori di iniziale degenerazione corporea e anche psicofisica. Un trauma da caduta in un paziente determina sempre un aumento della velocità dell'invecchiamento del paziente. Tante volte ci si pone anche la domanda è caduto perché si è rotto il femore o è caduto e si è rotto il femore? Tante volte c'è una frattura spontanea da stress involontario del femore che poi mi porta alla caduta successiva. E appunto ci sono 18.000, quindi il 20% di queste fratture che rimangono disabili, rimane una disabilità data da questo trauma. Perdita di autonomia nel 20-30% dei casi. Una lunga degenza nel 20% ma anche di più perché tante volte si instaura una debolezza muscolare che poi è difficile recuperare. Magari in un paziente di 70-75 anni con magari anche un'iniziale demenza inizia a essere veramente complicata. Sia la riabilitazione perché il paziente magari non è pienamente collaborativo e non si possono avere delle precauzioni che magari in un paziente completamente collaborativo si potrebbero avere. Raddoppio del rischio di fratture dell'altro femore. Se io ho l'osteoporosi e mi sono rotto questo, bene, devo caricare di più l'altro. Ma anche sull'altro ho l'osteoporosi, quindi vuol dire che la differenza, la variazione del mio atteggiamento, del mio comportamento mi porterà ad un aumento del rischio sia di caduta dall'altra parte ma anche di stress da carico sull'altro femore. Purtroppo anche aumento della mortalità. Una osteopenia, una degenerazione ossea a livello della colonna vertebrale che cosa mi porterà? Oltre a una riduzione dello spessore della colonna mi porterà anche ad ottenere degli atteggiamenti posturali deficitari per sentire meno male, per cercare di stabilizzarmi il più possibile con quello che ho a mia disposizione. Per cui inizierò ad incurvarmi sempre di più, ad avere questo atteggiamento più in chiusura per poter usare la muscolatura magari anteriore. Il dolore poi si tramuta. Prima ho detto che non abbiamo recettori all'interno dell'osso, non sento il dolore dell'osteoporosi ma sul periostio che è la membrana che avvolge l'osso siamo pieni di recettori per cui questa compressione magari data dal mio atteggiamento posturale, questa compressione data da un carico sempre più deficitario che quindi vi crea delle linee di forza che non sono fisiologiche la nostra colonna vertebrale dovrebbe avere delle curve fisiologiche la testa, una lordosi cervicale, una cifosi dorsale, una lordosi lombare e poi l'osso santo. Se noi abbiamo, iniziamo ad avere un aumento della curvatura dorsale, quindi un ingombimento la lordosi cervicale inizierà a sparire e avremo poi un'unica grande cifosi corporea, non più solo dorsale. quindi la linea di forza, la gravità che prima faceva questo lavoro qui, capite che è tutto quanto molto anteriore rispetto alla colonna vertebrale. Se prima passava posteriormente alla lordosi cervicale e lombare adesso passa tutto da parte per cui devo fare questo perché la linea di carico sia sempre mediale al mio corpo. quando è che insorge tendenzialmente l'osteopenia o l'osteoporosi? dai 50 anni in su si dice, nelle donne dopo la menopausa si inizia a fare la densitometria magari una volta ogni 3-4 anni, la MOC, la densitometria è una e la MOC è un'altra, che è il calcolo della quantità di minerali all'interno dell'osso. e sono gli unici due esami diagnostici che noi abbiamo per valutare effettivamente lo stato di osteopenia o osteoporosi. immagino e spero che l'abbiate già fatto tutte quante, almeno una densitometria. la DEXA? la DEXA e la MOC quanti e quante? la MOC? sono due cose diverse, cioè si possono fare o una o l'altra, sono equivalenti. danno dei valori diversi ma sono tutte e due indicatrici di osteopenia o osteoporosi. non ha molto senso perché se mi ha fatto la DEXA è comunque già un'impronta importante e è già il diagnostico quello, quindi non ha senso fare anche l'altra. queste sono alcune cose, alcuni fattori che aumentano il rischio per l'osteopenia e l'osteoporosi. magrezza eccessiva, quindi una mancanza di una struttura muscolare e di un tono muscolare importante che possa supportare il sistema osseo. oltre a esporre la struttura ossea all'impatto diretto da caduta. uso di farmaci osteopenizzanti, ci sono dei farmaci che favoriscono la demineralizzazione ossea. tutti quanti quelli, il cortisone per esempio, i cortisonici sono dei demineralizzanti. la menopausa, per quello che dicevo prima, la variazione del sistema ormonale femminile può aiutarmi a favorire una demineralizzazione e un aumento, una velocizzazione del processo degenerativo. meno pausa precoce, chiaramente ancora di più. stesso discorso per gli uomini, questo non cambia. come prevenire? allora ci sono, come dicevo, degli atteggiamenti che noi possiamo assumere per combattere questa situazione, questa patologia. la vitamina D, la famosa vitamina D, che noi produciamo, si. dicono d'estate non serve prendere la vitamina D perché c'è il sole, anche oggi c'è il sole, ma noi adesso non stiamo producendo la vitamina D. la vitamina D viene prodotta da quelle cellule epiteliali, ok, che vengono bruciate dal sole, per cui anche d'estate, se noi stiamo dentro casa, o stiamo sotto l'ombrellone, o prendiamo il sole sempre comunque con le creme protettive, noi non produciamo vitamina D. perché creiamo un filtro, specialmente con le creme, un filtro meccanico o ormonale a seconda del tipo di crema solare che andiamo a utilizzare, anche questa qua è una cosa importante da valutare. ci sono creme che creano una barriera meccanica, una barriera strutturale e delle creme che modificano, alterano la risposta melatoninica del nostro corpo, ok? sempre meglio il primo tipo. per cui, a sprodurre la vitamina D, noi dobbiamo prendere il sole sul corpo, sulla pelle, senza crema, 15 minuti, 15-20 minuti, non dobbiamo bruciarci, ok? però in 15-20 minuti, anche d'estate, è importante prendere il sole per un po', ok? e questo mi attiva la produzione di vitamina D. la vitamina D, poi, è importante fare l'esame del sangue, per valutare esattamente qual è il nostro livello di vitamina D. perché troppo poca vitamina D, non va bene. troppa vitamina D, non va bene. un'altra cosa che io, tendenzialmente, faccio assumere i pazienti insieme alla vitamina D, è la vitamina K. la vitamina K favorisce e aiuta l'assimilazione della vitamina D da parte del corpo. e, oltre a essere un decalcificante per le arterie, che quindi non ci fa male per diminuire il rischio cardiovascolare, aiuta proprio l'assimilazione e la permeazione della vitamina D all'interno della struttura ossea. il calcio, altra cosa che si può introdurre a livello alimentare. attività fisica, è fondamentale l'attività fisica quando c'è l'osteoporosi. ma se cado mi faccio male attività fisica adattata. ok? quindi bisogna però strutturare, bisogna aiutare il nostro corpo a ridare struttura al nostro sistema muscolare e osseo. si è visto da degli studi scientifici che fare pesi, quindi proprio palestra, aiuta a prevenire e a combattere l'osteoporosi. proprio perché le linee di carico che noi andiamo a imprimere a livello osseo, dato dalla trazione muscolare sullo stesso, mi aiuta a ricostituire un pochino le linee di forza del trabecco le osse. per cui è importantissimo, sarebbe assolutamente indicato a qualsiasi età, fare un po' di pesi. i due chili, tre chili, sono più che sulla bottiglia di acqua, vanno benissimo. chiaramente seguiti magari o con delle indicazioni da parte di uno specialista per evitare di farsi male. cercando di farsi bene ci si fa male, ok, però è assolutamente importante fare dell'attività fisica. che sia camminare, che sia andare in bicicletta, la cyclette magari, ok. però è assolutamente importante l'attività fisica, perché meno struttura muscolare abbiamo, più osseo abbiamo esposto. più o meno o meno muscolo abbiamo, più deve entrare in gioco la struttura ossea per tenerci in piedi. chiaramente il fumo non fa bene, chiaramente il troppo alcol non fa bene. quali altre terapie abbiamo per l'osteoporosi e l'osteopenia? la magnetoterapia frequenziale è sicuramente la terapia fisica più potente e più forte che noi abbiamo in questo momento per combattere l'osteoporosi e l'osteopenia. a livello osseo tutte le magnetoterapie che siano ad alta o a bassa frequenza, alta o bassa intensità funzionano. tendenzialmente funzionano meglio quelli ad alta intensità su una frattura ossea. su una struttura trabecolare deficitaria funziona molto meglio una frequenza bassa e un'intensità bassa perché penetra di più nei tessuti e raggiunge delle frequenze che sono quelle di biorissonanza quindi le stesse frequenze alle quali parla proprio il corpo umano. la linfa per esempio è appunto una terapia frequenziale, una magnetoterapia ciclotronica che emette queste frequenze variabili, quindi una sinfonia di frequenze non essere monofrequenziale o sinusoidale come frequenza e stimola proprio la rigenerazione del tessuto osseo. io ho fatto fare ai miei pazienti DEXA prima, DEXA dopo e abbiamo visto che c'è stato un netto miglioramento dell'osteopenia in questo caso era, quindi una regressione della degenerazione del tessuto osseo e nel caso di osteoporosi su una paziente molto più anziana che aveva circa 75-80 anni ha fatto il suo bel ciclo, ne aveva fatto un altro era caduta, era caduta per terra, il femore non si è rotto per cui quello per me è stato un risultato veramente importante il paziente ha salvaguardato la sua struttura, la sua qualità di vita quindi per esempio i protocolli di lavoro qua prevedono 8-10 sedute a seconda 8-10-12 sedute a seconda della gravità, della severità della patologia osteopenica o osteoforotica da fare una volta all'anno due ore, mezz'oretta, due volte a settimana e si hanno dei risultati veramente eccezionali perché non ce lo fanno in Italia dei dottori? allora la struttura sanitaria pubblica questa cosa qua non ce l'hanno però tendenzialmente sarebbe da fare sarebbe una prevenzione veramente utile purtroppo anche i medici di base non la conoscono stiamo provando a fare un lavoro di informazione solo che è difficile non sono così recettivi a volte purtroppo a Bolzano ce l'abbiamo io ce l'ha un altro studio vicino al cimitero ci sono dei centri specializzati che hanno questo macchinario io lo studio in via Talbera di fronte all'alfabeta dopo vi lascio comunque i recapiti dentro il mio grazie allora questo è il muro più è grande? allora in caso di un'osteoporosi severa anche qui lì avete visto che c'era una stuoia lungo sul punto il lettino in quel caso è un trattamento a specifico di tutto quanto il corpo che io tendenzialmente prediligo anche a quello selettivo colonna e anca ma se per esempio abbiamo una osteoporosi estremamente severa può succedere che a fare la dexa la colonna sta bene è più o meno nel range di tolleranza biologica l'anca ha una osteoporosi severa allora in quel caso magari non ha molto senso fare un lavoro a specifico di tutto quanto il corpo ma ha più senso fare un lavoro specifico sulle teste dei femmuli perché magari quel paziente ha avuto una degenerazione maggiore ha un carico maggiore sulle anche rispetto che sul resto del corpo per cui si va a intervenire direttamente su quello con degli emettitori specifici più piccoli chiaramente se io ho un deficit più importante avrò magari bisogno di più stimolo però non fa male le uniche controindicazioni sono pazienti in gravidanza peacemaker perché potrebbe andare a variare a livello frequenziale lo stimolo del peacemaker e tumori, pazienti tumorali nei primi dieci anni primi dieci anni? all'interno dei dieci anni post tumore non è indicato fare magnetoterapia proprio perché la magnetoterapia è una biostimolazione per cui andiamo a stimolare il tessuto per quanto le frequenze che vengono utilizzate siano specifiche e dell'osso non posso garantire che non ci sia una stimolazione anche di altri tessuti che è meglio non stimolare per cui non si fa a meno che non ci sia un via libera dell'oncologo che dice no, è a posto, puoi farlo però in quel caso prego non ci sono problemi non ci sono problemi perché le frequenze basse e la bassa intensità non va a dare risonanza a quegli impianti metallici quindi anzi post protesi ci sono altri protocolli di lavoro con quel macchinario che sono assolutamente indicati nelle prime due settimane post protesica per ridurre l'edema, per ridurre la flogosi, per ridurre il dolore a livello tessuta all'interno l'altra patologia bella e interessante è l'osteoartrosi primo appunto non facciamo, non confondiamo osteoartrite con artrite sono tutte e due delle degenerazioni a livello articolare ecco allora prima cosa osteoporosi tutta la struttura dell'osso artrosi la parte articolare ok? quindi sul nostro bel femore avremo il nostro ginocchio osteoporosi prenderà tutta la struttura tutto rosso ok? noi lo vedremo dalla grandezza e dalla densità della testa del femore agatrosi prenderà tendenzialmente la parte articolare proprio perché è una degenerazione del rivestimento delle nostre articolazioni della cartilagine ok? anche qua è una questione degenerativa fisiologica cioè sempre stata sempre ci sarà si possono avere degli atteggiamenti delle precauzioni per combattere per prevenire per attenuare la sintomatologia ma anche qua non è che possiamo non averla viene purtroppo viene la differenza tra osteoartrosi o osteoartrite perché la traduzione dall'inglese osteoartritis sono la stessa cosa osteoartrosi o osteoartrite ma non è l'artrite l'artrite è una patologia autoimmune ok? che tante volte prende soprattutto le piccole articolazioni delle mani dei piedi ok? l'artrosi è più frequente vederla nelle grosse articolazioni nelle ginocchia nelle spalle a livello della colonna vertebrale proprio perché essendo la patologia del rivestimento articolare viene dove c'è un maggiore stress articolare dove c'è un maggiore stress della nostra articolazione del tessuto ci sarà una degenerazione più veloce più rapida e maggiore in questo caso qua i dolori si sentono e come ok? proprio perché a livello articolare noi abbiamo molti recettori del dolore ok? e perché il tessuto infiammatorio non si limita all'articolazione ma va a prendere tutti anche i tessuti molli per cui avremo una situazione logistica di tutto quanta alla parte interessata appunto è una patologia cronica e degenerativa per cui se non si fa niente non è che passa no peggiorerà e andrà sempre peggio per cui è sempre meglio fare qualcosa quando è che può comparire l'artrosi? allora a meno che non ci siano delle situazioni precoci tendenzialmente si può iniziare a sviluppare l'artrosi tra i 40 e i 50 anni in su anche qua nelle donne ci può essere un fattore ormonale scatenante mi dispiace mi dispiace e e dopo i 60 anni ci può essere un picco degenerativo un picco proprio perché? perché la struttura muscolare tante volte degenera quindi non abbiamo più quel bel supporto muscolare il tonico che ci tiene in piedi che ci aiuta a camminare che ci aiuta a fare le cose ma siamo sempre di più a supporto osseo della nostra funzionalità di vita quotidiana per cui se ci muoviamo ci muoviamo sulle ginocchia non ci muoviamo con i quadricipiti ok? appuntino in alcuni casi può succedere sotto i 40 anni mi è successo di vedere i pazienti di 38-40 anni fare una protesi a ginocchio perché avevano l'articolazione completamente degenerata completamente mangiata e capita purtroppo capita sicuramente un fattore scatenante in età così precoce può essere una degenerazione articolare post-traumatica quindi incidente trauma ho una frattura o magari non ho una frattura ma mi si è creato un edema osseo intraspongioso la spongiosa è quella struttura che c'è all'interno dell'osso che mi indebolisce l'articolazione mi indebolisce l'osso e quindi andrò a dare maggiore carico oppure appunto post-traumatica dall'altra parte zoppico per un anno per un anno zoppicato per un anno ho appoggiato male il piede per un anno quell'osso è stato preso a sassate tutti i giorni ogni passo quell'articolazione avrà una degenerazione molto più rapida e molto più importante del resto del corpo anche a dispetto dell'età che noi abbiamo principali sintomi calore l'articolazione artrosica sarà calda dolore avremo male avremo male a muoverla avremo male soprattutto nei primi passi quando l'articolazione magari non è lubrificata è rimasta ferma per molto tempo la mattina dopo pranzo quando mi devo rimettere in moto saranno i momenti peggiori per un artrosico colore assumerà rubefascenza sarà rossa l'articolazione calda rossa ok? funziolesa avrà un deficit di funzionalità sono quattro sintomi di una degenerazione di un'infiammazione ok? l'artrosi creerà sempre edema e flogosi quindi infiammazione e versamento endo e periarticolare beh ginocchioni così pieni di liquido caldi che faccio fatica a muovere magari anche rossi ok? tutte queste cose qua sono degli indicatori dell'artrosi e anche magari a livello visivo ci sarà non ci sarà più quella quell'aspetto del ginocchio ok? ma sarà un monoblocco ok? vedremo non si vedrà più la rotula davanti sarà tutto un monoblocco quindi anche lì è un indicatore abbastanza evidente chiaramente che cosa mi comporta un aumento della della degenerazione articolare una riduzione della qualità di vita perché faccio più fatica a muovermi e qui iniziamo il nostro bruttissimo circolo vizioso faccio più fatica a muovermi mi muovo di meno l'articolazione degenera di più darò meno strutturazione meno stimolo nel sistema osseo mi aumenta la osteoporosi ok? per cui è assolutamente importante lavorare prevenire e curare i sintomi e non solo i sintomi ma anche proprio la qualità di vita lo stile di vita per poter contrastare questa patologia degenerativa ci sono diversi tipi questo qua è un po' più specifico però ci sono diversi tipi di artrosi c'è l'artrosi c'è l'artrosi primitiva c'è l'artrosi post-traumatica c'è l'artrosi localizzata solo il ginocchio destro oppure una degenerazione progressiva cronica di tutto quanto il nostro corpo e anche qua ci saranno diversi tipi diversi stati ok? quindi se un articolazione qui abbiamo la nostra cartilagine ci sarà un primo strato stadio 2 stadio 3 stadio 4 e poi avremo un tronchetto della felicità al bosso del ginocchio e l'artrosi prende tutto il corpo tutte le articolazioni ok? cervicale lombare dorsale perché la dorsale non è esente da questa patologia ogni articolazione può essere soggetta a degenerazione artrosica degenerazione osteoartritica ok? questo è quello che abbiamo detto prima l'artrite appunto è una patologia infiammatoria autoimmune cronica non è correlata a fattori specifici e può manifestarsi in persone di tutte le età quindi non è correlata all'età ma se una persona manifesta artrite ovvero una patologia autoimmune vuol dire che il nostro sistema immunitario va ad attaccare il nostro attristo corpo può manifestarla a qualsiasi età e anche qua i sintomi saranno più o meno gli stessi tumefazione rigida articolare dolore che si presenterà in qualsiasi momento sull'artrosi avremo dei momenti in cui avremo più male no? quando ci rimettiamo in al cambio del tempo ok? quando ci sarà una variazione dello stato dell'articolazione sull'artrite invece sono fermo sul divano dolore lancinante che cosa possiamo fare contro l'artrosi? terapie conservative sicuramente la fisioterapia è la prima indicazione data dagli ortopedici per contrastare la degenerazione articolare anche in questo caso qua la magnetoterapia frequenziale è assolutamente indicata varieranno le frequenze che si utilizzeranno non si utilizzerà non solo la frequenza ossea ma si utilizzerà una frequenza di rigenerazione e stimolazione connettivale quindi per le cartilagini ok? come si sta dicendo? la linfa sempre quella la tecar è un'altra cosa la tecar lavora tendenzialmente di più a livello dei liquidi del corpo mette in comunicazione la piastra e il manipolo ok? quindi c'è una mobilizzazione delle molecole di acqua all'interno del corpo questa mobilizzazione crea energia cinetica che si trasforma in energia termica quindi quello è data dal calore che si sente quando si fa la tecar è dato da quello ha un'azione antinfiammatoria perché questa mobilizzazione mi aiuta a portare via gli agenti infiammatori ma non è biorigenerativa non va a rigenerare i tessuti va a stimolare? si va ad aiutare il tessuto a guarire? si ma non è uno stimolo di rigenerazione tessutale per cui fa bene in appunto? si perché mi aiuta a sfiammare assolutamente però non mi cura l'artrosi mi tratta il sintomo ma non mi cura l'artrosi farmaci antinfiammatori e analgesici facciamo un abuso di antinfiammatori e analgesici quindi era veramente importante il problema è che noi tante volte facciamo solo quello prendiamo solo gli antinfiammatori solo gli analgesici e non facciamo tutto il resto questo ci crea non ci aiuta no? perché noi prendiamo solamente la pastiglietta prendo il mio bel bruffo due volte al giorno l'arcoxia e via ma questo soprattutto l'analgesico è come se noi avessimo la nostra bella spia della macchina che dice manca olio noi ci mettiamo sopra uno scotch non vedo niente la macchina non mi dice più niente ma l'olio manca ok? io spingo sull'acceleratore e brucio il motore ok? quindi prendo il mio bel antidolorifico mi vado a fare la mia camminata in montagna di 8 ore torno a casa e il giorno dopo c'ho un ginocchio così per cui è importante combinare sempre le attività che si vanno a fare la fisioterapia non esclude magari l'antinfiammatorio ma magari mi previene dal doverlo assumere con tutta questa frequenza con tutta questa intensità l'antinfiammatorio da solo mi toglie il dolore? sì! mi toglie l'infiammazione? sì! ma stiamo sempre e solo curando il sintomo non stiamo mai curando la patologia la causa della patologia ok? tantissime volte un tessuto un articolazione parliamo del ginocchio quello più conosciuto più immediato un ginocchio artrosico tante volte non è supportato da una struttura muscolare o ha una struttura muscolare tonica ma è estremamente rigida quindi anche l'elasticità muscolare è assolutamente importante avere una contrattura così sul quadricipite mi riduce la capacità muscolare mi riduce la capacità del muscolo di supportare l'articolazione e mi aumenta quindi l'impatto articolare nella camminata per cui io faccio palestra faccio muscolo io ho un muscolo sì ma il mio muscolo non è elastico è duro è rigido e c'ha un gruppo così dentro anche questo mi va a dare dei problemi a livello dell'articolazione perché l'articolazione c'ha sopra un tirante d'acciaio non c'ha un elastico ok? e quindi bisogna lavorare anche sul tessuto muscolare usare il mio rilassante e siamo di nuovo qua sulle pastiglie sì beh no qua si lavora sulla terapia terapia che può essere fisioterapia esatto quindi rilassare muscoli sì andare a togliere andare a togliere quelle retrazioni muscolari tessutali che ci possono essere create il mio rilassante è a specifico a meno che lei non mi faccia una puntorona di muscolil intramuscolare in quel punto cosa che lei non può fare e comunque è a specifico per cui lei in realtà prendendomi un mio rilassante mi va a togliere tono a tutto quanto il sistema muscolare che non va bene io ho bisogno del tono muscolare per supportare soprattutto del tono della muscolatura tonico posturale che è quella piccola muscolatura stabilizzatrice profonda che ci tiene su in piedi noi immaginiamo il muscolo quadricipile bello grosso così ma in realtà quello che ci tiene in su sono i piccoli muscoletti sulla colonna ok i piccoli muscoli grandi così spessi così che ci tengono su e sono quelli che noi andiamo a inficiare con i nostri mio rilassanti ok per cui prendo il mio rilassante perché la cosa è molto caldo calda si quando si fanno i fanghi si ti metti ancora del più caldo si perché gli perché fanno bene perché il fango è solo bene esatto tira fuori aiuta a seccare l'articolazione il calore terapeutico come la teca ok creiamo un calore terapeutico su una struttura infiammata si è vero ma è un calore terapeutico momentaneo temporaneo e specifico per una funzione per cui io metto su il caldo che in realtà mi rilassa la muscolatura per cui vado a togliere tutta quella tensione muscolare che vado a rilassare i recettori neuromuscolari i sistemi golgiani i fusi che sono a livello dei tendini che rilassano l'articolazione e l'articolazione si molla ok per cui andiamo a togliere quella quello stimolo negativo da parte della muscolatura dei tessuti molli ok sicuramente su una articolazione artrosica il ghiaccio è importante ok vado a farmi la mia bella camminata dopo quei 5-10 minuti di ghiaccio sull'articolazione possono essere assolutamente indicati perché mi vanno a togliere mi vanno a raffreddare l'articolazione magari mi vanno a togliere un pochino quella rubefacenza quel calor dato dall'attività articolare errata ok per cui è meglio il freddo che il freddo dipende dipende sull'articolazione va benissimo il freddo in acuto in autotrattamento il ghiaccio sull'articolazione artrosica va bene perché il ghiaccio anestetizza e mi va a togliere due di quei quattro fattori che sono l'infiammazione il calore e la rubefacenza ok è un vasocostrittore certo ma infatti non bisogna tenerlo come un vasocostrittore non dà lesione allora se me lo lascia su 40 minuti sì se me lo lascia su 10 minuti ha un'azione puramente antinfiammatoria se lei mi lascia sul ghiaccio 40 minuti cosa succede a un certo punto ci sarà un'inversione termica il corpo è più freddo del ghiaccio per cui in realtà il ghiaccio scalderà il corpo e avremo un aumento un continuo alto basso ok vasodilatazione vasocostrittione quindi un aumento della pompa sanguigna questo non è indicato nell'artrode ok ghiaccio 10 minuti lo metto via eventualmente lo rifaccio un'ora dopo ok diciamo che allora quando mi infiammatoria è meglio ghiaccio sì perché agisco sull'infiammazione esatto e poi invece agisco con il calore che agisce sempre il calore me lo mette sul muscolo sul muscolo ok il freddo sull'articolazione e il caldo sul muscolo spalla mi viene male la spalla ho l'artrosi della spalla mi fa male la spalla beh ghiaccio sulla spalla 10 minuti la sera mi metto il mio bel cuscinetto dei semi di ciliegie sul collo e sottoquanto la zona muscolare periscapolare in maniera da rilassare la muscolatura della scapola e del collo e del trapezio e degli scaleni ma vado a dare un'azione anche antinfiammatoria diretta sulla spalla ok anche qua tramite ci sono dei test diagnostici test clinici per cui se il gilocchio non si piega c'è qualche problema rx raggi si vedono i raggi ci sarà proprio una degenerazione una ralefazione dell'articolazione una degenerazione della struttura ossea se avete mai letto un referto se avete fatto una dei raggi ecco perfetto dopo lo leggiamo inizieranno a crearsi degli osteofiti quindi degli appuntimenti osteofitodici che sono la tendenza dell'osso a cercare un aumento della sua superficie d'appoggio quindi crea ossi solo che non devono esserci la gli ossi perché vanno a combattere contro magari l'altra articolazione o tessuti molli che quindi mi creano ulteriore infiammazione ok terapia iniettiva locale acido ialuronico l'acido ialuronico può essere ad alta o a basso peso molecolare l'acido ialuronico è un lubrificante ok che noi buttiamo all'interno dell'articolazione ci cura ci guarisce dall'artrosi no temporaneamente ci darà un sollievo perché noi mettiamo del liquido all'interno dei nostri cuscinetti quindi aumentiamo lo spessore articolare e gli diamo un po' di lubrificazione ma dopo un po' finirà l'effetto e bisognerà rifarlo di nuovo quello non ha diciamo dei conto indicazioni come quest'altro che lei ha detto il cortisone allora sul cortisone il cortisone è un antinfiammatorio per eccellenza ok in casi estremi si utilizza il cortisone ma dico questo non fa male come quello l'acido ialuronico no 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 l'acido ialuronico non è solamente un lubrificante se lei mettesse olio d'oliva dentro sarebbe più o meno la stessa cosa ok adesso si iniziano a fare terapie infiltrative anche con cellule staminali PRP quindi l'asportazione del grasso la la rigel prendiamo le cellule pluripotenti all'interno del grasso che li riniettiamo all'interno dell'articolazione e quelli dovrebbero dare una stimolazione di rigenerazione tessutale per cui dovrebbero rispecificarsi con un tessuto articolare cartilagineo anche qua a volte funziona a volte no non è sicuro al 100% ultima cosa ultima spiaggia protesi la protesica di oggi è tanto diversa rispetto a quella di 10 anni fa per esempio oggigiorno una protesi di Anca la parte che dura 30-35 minuti di intervento il giorno stesso c'è carico al 100% non c'è più un lungo periodo di scarico dell'articolazione la lunghezza dello stelo tendenzialmente è molto più piccolo non c'è più questo grande stelo indomidollare di 10-15 cm del femore è molto meno invasiva rispetto a una volta rispetto solo a 10 anni fa vi ho visto all'inizio del mio percorso lavorativo e oggi ci sono proprio due mondi completamente diversi prego quando c'è il problema di genocchio dicono è meglio fare l'intervento preventivo non ha senso fare l'intervento preventivo bisogna vedere come va a fare la fine o aspettare che viene sano allora bisogna riuscire a intercettare il momento giusto non ha senso a mio avviso e personalissima opinione fare un intervento quando non ce n'è ancora la necessità non ha senso aspettare di essere rovinati ok? bisogna trovare quel momento in cui la mia funzionalità è ancora sufficiente per supportarmi nella riabilitazione successiva in maniera tempestiva rapida e indolore perché se io porto il mio corpo a uno stress eccessivo per troppo tempo sono 10 anni che ho questa atrosi al ginocchio io per 10 anni camminerò in maniera errata quindi la stimolazione non solo di quel ginocchio ma di tutto quanto il sistema corpo sarà errata, sarà deficitaria, sarà sbagliata per cui il problema non sarà più il ginocchio perché mi opero il ginocchio e un anno dopo mi operarà l'anca perché nel frattempo ho esacerbato anche la sintomatologia dell'anca ho rovinato l'articolazione che magari era sana prima ok? però l'ho distrutta perché perché mi sono ostinato a non volermi operare perché avevo paura 4-5 anni fa ero andato perché avevo male sto ginocchio e non riuscivo a camminare e mi arrivano mi hanno detto ci per il nostro poi mi hanno dato anche che ci hanno detto che non riesco a camminare certo non mi scelto chiaramente che staventano camminare troppo in 5 anni però il ginocchio lo sento in occhio di cucito sono 4 anni, 5 anni in cui ci vado avanti fa terapie? sì quello è sicuramente importante finché la sua funzionalità ci possono essere dei picchi infiammatori 5 anni fa mi è partita l'infiammazione avevo l'infiammazione esatto per cui era il momento di massimo di apice infiammatorio del suo ginocchio passato all'acuto chiaramente la situazione non è guarita si è cronicizzata ok? però non è più così acuta ok? l'importante è che lei tratti quell'articolazione ok? per cui lavorare con dell'integrazione magari naturale va benissimo fisioterapia assolutamente attività fisica adattata indispensabile ok? e magari utilizzare delle eh i tutori ok? quando va a farmi dell'attività fisica un pochino più intensa vado in montagna mi metto il mio tutore per il ginocchio ok? mi metto il mio tutore per il ginocchio che mi dà un po' di compressione evita che il mio ginocchio si vada a infiammare eccessivamente e supporto il sistema osseo muscolare con un aiutante esterno ok? poi anche lì bisogna vedere quando la difficoltà aumenta e le precauzioni e le attività riparative non sono più sufficienti allora in quel punto è meglio fare sì perché per prevenzione io con la prevenzione se io cammino che vado abbastanza bene cosa faccio? perché ho visto delle persone che ho fatto l'importante è che l'importante è che lei mi faccia la valutazione sempre con gli stessi criteri ok? per cui prima facevo 20 km e stavo bene oggi non può farmi la valutazione faccio 3 km e sto bene ok? per cui a parità di attività la qualità di vita deve essere equivalente quando quella inizia a essere 15 km 10 km ok? vuol dire che io posso fare molto meno con la stessa qualità di vita perché dopo inizia il dolore l'infermazione la degenerazione allora a quel punto non ha più molto senso aspettare ma è quel tipo di esame che diceva lei prima una cosa così la radiografia? no quell'esame che diceva non è ecca non so perché l'ha fatta più volte altro tipo di esame la magnetoterapia? no no scusa esame di terapia si magnetoterapia sempre la magnetoterapia sempre la linfa è una stimolazione anche la frequenziale come per l'osso solo che variano le frequenze un po' di confla perché il tetra fa santo un po' di liste si ma invece quest'altro tipo di la magnetoterapia fondamentalmente c'è un emettitore ok? qua dietro all'interno c'è una bobina in oro che è collegata al macchinario questa qua emette delle frequenze emette delle frequenze locale si mette là si mette là per la rigenerazione connettivale dura 53 minuti ok? 53 minuti questo qua lavora e rimane là e rimane là esatto ma è indicato per il cino? è indicato per qualsiasi tipo di articolazione lavora sui tessuti connettivali quindi cartilagine ok tendine e legamenti ok? scusa ma anche i organi cos'è che costruiscono la cartilagine? no cosa fanno? quando fanno la protesi al ginocchio loro segano questo sostituiscono questo sostituiscono questo e sostituiscono questo pezzo qua quindi 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 ha un'articolazione ha un'articolazione nuova la zecca e c'è il cuscimento che fa l'ammortizzatore? è sintetico ci mettono in mezzo ci mettono in mezzo i bini stili e il collagene? il collagene è quell'altra terapia infiltrativa ci mettono in mezzo si no è caduto? si usa ancora anche la dipende dallo stato di degenerazione dell'articolazione cioè mentre non c'è più collagene bisogna fare più forza che il lavoro allora no il collagene non va in giro ok? il collagene è all'interno dei tessuti è all'interno del tendine è all'interno poi abbiamo due tipi di collagene il collagene tipo 1 il collagene tipo 2 il tipo 2 è all'interno della cartilagine il collagene tipo 1 all'interno dei tendini e se io assumo collagene ok? che può essere un integratore a base di collagene questo mi può aiutare a rimpinguare un pochino i miei le mie riserve di collagene all'interno della collagene ma è sempre una terapia a specifica globale ok? prego una curiosità poi questi due pezzi mobili vengono incollati impiantati 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 incapsurati praticamente no sono dei perni che vengono martellati dentro e se lo so non è buono? eh altro motivo per cui tante volte non ha senso aspettare troppo perché può essere che aspettare troppo mi vada a degenerare eccessivamente la struttura ossea articolare e quindi devono aumentare la superficie da ricostruire o appunto devono cementare la protesi ok? si mette del cemento si mette uno stelo più lungo ok? per cui si modifica un pochino il concetto è lo stesso anche sull'anca loro segano qui e mettono un nuovo stelo e sulla parte acetabolare la lima limano e mettono una nuova superficie articolare qua è un miracolo ecco questa è la parte brutale a livello alimentare anche qua abbiamo delle cose da poter fare quindi ci sono degli elementi infiammatori la carne rossa può essere un po' infiammatoria i latticini possono essere infiammatori l'alcol è assolutamente infiammatorio ok? invece ci sono altri alimenti che sono anti infiammatori l'omega 3 l'omega 3 è un integratore fondamentale che noi non guardiamo mai il rapporto tra omega 3 e omega 6 dovrebbe essere di 2 a 1 io ho fatto un esame avevo un rapporto di 21 a 1 quindi avevo una carenza gravissima di omega 3 questo può predisporre il corpo a una instaurazione a una cornicizzazione del sistema infiammatorio corporeo quindi vuol dire che io crea un'infiammazione molto più facilmente perché? perché ho gli acidi grassi di omega 3 troppo bassi per cui bisogna integrare l'omega 3 dove lo troviamo? nel pesce azzurro nel salmone nelle noci ok? mandorle frutta secca frutta secca oppure nell'integrazione specifica e lo fanno attraverso l'esame del sangue? allora non tutti nel senso che è un esame abbastanza specifico che in Italia non viene fatto così di frequente l'omega 3 io per esempio lo faccio con un test capillare ma devo inviare in un laboratorio in Norvegia una della Norse ha fatto una della Norse? no della EQ si chiama ci si però sono tutti quanti laboratori esteri e esterni perché in Italia non si va eh sarebbe così importante però eh sì come tutte le cose eh sì e l'omega 3 a livello articolare mi riduce quella stato infiammatorio cronico che può esserci in una situazione artrosica importante per cui è assolutamente indicato è assolutamente insieme alla vitamina D e alla K2 ma è la vitamina D e alla K2 dipende da che integratore prende la vitamina D e consiglia è quella dolce o quella diciamo c'è quella per un mese e per un mese? allora concettualmente a me piace di più l'assunzione continuativa in maniera da non creare il picco del di base a 100.000 unità una volta al mese e poi piano piano andiamo giù nella curva mi piace molto di più l'idea di mantengo costante la mia integrazione in maniera che il mio livello di vitamina D sia sempre costante all'interno del corpo perché sennò creiamo sempre questi picchi 100.000 unità 0 100.000 unità 0 giorno per giorno esatto e la vitamina K si trova insieme alla vitamina D? dipende ci sono degli integratori che sono combinati ci sono degli integratori separati quello varia dalla marca varia grazie ma hai una volta che le goci una volta allo settimana? piuttosto che una volta al mese va bene cioè nel senso se io devo prendere il di base tutti i giorni non è possibile per esempio se io devo assumere 100.000 unità al mese perché ho una grossa analizzazione di vitamina D tendenzialmente posso prendere 25 a settimana prendo 52 volte al mese le mie vita della vitamina D è di 3 settimane 18-20 giorni per cui se io la prendo all'1 del mese e l'1 del mese successivo ho 10 giorni che sono scoperto per cui a me personalmente piace di più l'idea di mantenere costante l'indegrazione quotidianamente in maniera da non avere picchi e picchi positivi e picchi negativi perché anche il picco positivo non riesco ad assimilare tutta quella vitamina D in un unico momento per cui preferisco che il mio sistema lavori costantemente tutti i giorni un po' alla volta e sia costante qua devo farvi vedere un paio di cose sull'osteoporosi di nuovo questa qua come dicevo è la struttura trabecolare di un osso sano questa qua è la degenerazione la rarefazione del tessuto interno dell'osso questo qua è il risultato che si può vedere quando si va a fare la DEXA quindi i valori T-score si fa vedere è importante che sia qui nella parte verde quindi per esempio questa colonna vertebrale anche se è scogliotica che è storta però ha un T-score che è più o meno nella media per la sua età ok? si vede qua sotto l'età e qua si vede il T-score questo qua è una colonna vertebrale leggermente osteopenica quindi è iniziale degenerazione si deve fare qualcosa? assolutamente si devo stimolare la colonna vertebrale posso iniziare a fare una un'integrazione specifica per questo livello di osteopenia e di degenerazione un ciclo ogni due anni di magnetoterapia magari invece che una volta all'anno se fosse più grave magari mi previene e mi fa tornare indietro la degenerazione anche la dipende 8, 10, 12 tendenzialmente a seconda della gravità due volte a settimana per due o mezz'ora quella dell'osso quanto costa? quanto costa? è assolutamente è assolutamente è assolutamente è assolutamente è assolutamente quindi si può vedere anche una vertebrale? una osteoporotica? nel senso che non è specifica non è specifica se qua ci fosse allora questo qua è una colonna vertebrale assolutamente osteoporotica ok? vediamo che il t-score è molto basso 1.4 ok? vuol dire che siamo nell'osteopenia scusate il t-score è 4 la z-score era 1.4 vuol dire che siamo pesantemente osteoporotici ok? a livello artrosico non c'è una definizione bella netta delle articolazioni per cui è plausibile che ci sia anche artrosi e degenerazione articolare oltre che degenerazione della struttura ossea però stiamo valutando un'altra cosa ma l'artrosico che sa ne lo vedi? rx raggi classici non più che sufficienti se si vuole andare a vedere lo stato cartilaginio bisogna fare una risonanza magnetica perché l'osso vede solamente cioè l'rx vede solamente le ossa la risonanza magnetica vede tutti anche i tessuti molli ma le risonanza si vede tutto? sì con la risonanza si vede tutto non l'osteoporosi questo è un esempio di quello che facevo prima un'anca che sta bene la colonna un pochino meno per cui in questo caso qua cosa faccio? stimolo tutto? male non fatto però se faccio una cosa più specifica sulla colonna ha più senso magari ok? basta, ho finito guarda anche per l'osteoporosi quella calcio adesso non so il nome del parma è il colonnato allora per l'osteoporosi ci sono diversi tipi di terapia farmacologica che vengono dati terapia farmacologica ha parlato calcio ma ha visto il disegno del latte sì, no, ci possono essere la calcitina può essere ci sono degli integratori alimentari a livello di calcio il calcio è molto più facile per assumere a livello alimentare per cui ma quando è severa o l'osteoporosi? quando è severa bisogna integrare in maniera più importante magari però anche lì come è che si chiama? bifosfonati danno tante volte bifosfonati fanno male le controindicazioni? come tutti i farmaci ci possono essere delle controindicazioni a livello di assunzione bisogna essere attenti quando ci sono è possibile allora evitare le nonne e le prenoti diciamo le ottene allora i medici tendenzialmente quando c'è una osteoporosi severa danno il bifosfonato ma perché è l'indicazione scientifica che c'è al momento? prego è vero che un'eccessiva soluzione di calcio può produttare diabete? non lo so rispetto al calcio se gli esami esilita un valore normale di calcio? se bisogna integrarlo se ci sono i valori giusti? come la vitamina D però non so quanto sono le dame che è allora la vitamina D quindi tendenzialmente c'è un valore dallo 0 a 100 ok il valore giusto deve avere è tra i 40 e i 60 se uno ha sotto i 40 deve integrare se uno ha sopra i 60 non deve integrare certo ma il calcio quando ha il valore normale o la B12 vuol dire che il problema non è quello se se i valori sono normali c'è un altro magari una incapacità di assorbimento? può essere? ma se i valori sono normali vuol dire che il corpo lo assimila a quello cioè come dicevo prima l'osteoporosi è degenerativa è fisiologica cioè vuol dire che noi dobbiamo dare uno stimolo diverso da quello integrativo come dicevo prima non c'è solo l'integrazione ci sono altre cose che bisogna fare appunto si possono prendere i bifosfonati e magari c'è bisogno di quello non c'è solo il calcio c'è anche il fosforo ok per esempio cosa fanno? lavorano sul livello trabecolare lavorano all'interno della permeabilità ossea del fosforo e del calcio che trattiene? si fa entrare meglio che trattiene? fa entrare meglio che trattiene per fare queste applicazioni di magnetoterapia si cioè una posizione allora così senza prescrizione medica cioè cosa serve? niente se uno ha l'indicazione ho l'osteopenia bene però deve entrare sempre da un medico e ti diagnosticare questa roba bene chiaro non posso inventarmi di avere l'osteopenia quello no certo ma per quello dicevo dopo i 50 60 anni tendenzialmente è indicato fare una desitometria ok? perché? perché per età siamo nel range di età corretta per poter manifestare questa patologia perché è il momento giusto per poter attuare tutta quanto una serie di precauzioni per evitare di degenerare ulteriormente insomma è un buon momento per fare un punto della situazione e capire dove siamo quindi con questa diagnosi uno prenota questi studi esatto grazie grazie a lei grazie 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 bisogna fare la densitometria. In riguardo al tuo lavoro dell'ossio, l'ossio corossico, che praticamente è una delle brame, la grame che sopra le rotte dicevano. Questo tipo di dolore, come si caratterizza? Come ho detto prima, l'osteoporosi non crea dolore, perché noi non abbiamo recettori all'interno della struttura ossea. Ma la membrana è esterna, non viene inficiata dall'osteoporosi. Una paziente adesso sta facendo il ciclo di magnetoterapia. Quello che lei mi ha riferito è stato mi sento l'osso più forte, mi sento l'osso più forte. E' difficile dare una cosa per tutti. Ognuno ha la sua percezione, però non c'è un dolore dell'osteoporosi. Può esserci il dolore dato dal fatto che c'è un crollo vertebrale, quindi la struttura intorno sono crollate, sono rovinate. Ma l'osteoporosi è una cosa... è asintomatica. Me ne accorgo quando cado e mi rombo. Lì fa male. Non hanno ancora inventato una pillola anti-invecchiamento, insomma, che non si... Perché non si rirata. Non si rirata, non si rirata. Ecco. Grazie. 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 Grazie.